Il Club Music Hall per la prima volta con Big Mo, il primo rapper gay della storia Come potete vedere, tutti i numeri impazziranno per me stasera, sono sicurissimo ragazzi Dai numeri Giorgio Prontà? Pronto O? Passo alla seconda domanda Allora, lettera A Attenzione, attenzione a dire parolacce Ilaria, non ti distingue, non ti distingue Sto vedendo il meglio di me Ecco, vediamo il meglio di sé Ilaria Fontriore Pronto O? Allora Do you like this show? Allora Sottotitoli 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 Sottitoli Sottitoli Non sono io, io sono un fattuto pappone.